Sono circa 4.500 le opere conservate nei musei civici fiorentini, quadri o sculture che non sono visibili al pubblico non certo per il loro poco valore ma per la mancanza di spazio. Accade in Italia praticamente in tutti i musei. Adesso per la prima volta quelli dei musei fiorentini che fanno capo al comune saranno custoditi in un unico spazio all'interno del complesso di Santa Maria Novella e saranno quindi visitabili. Per ora ci sono circa 300 opere provenienti dai depositi del vicino museo del Novecento tra le quali figurano nomi come Fontana, Guttuso, Carrade, Pisis, Maffai, Cagli, Morandi. A queste andranno progressivamente ad aggiungersi la rimanente parte delle collezioni novecentesche per permettere una rotazione espositiva al museo del Novecento, le sinopie del ciclo di affreschi del chiostro verde di Santa Maria Novella, alcune raccolte ottocentesche tra le quali quelle dell'ex museo del risorgimento e i dipinti dei macchiaioli, ma anche le opere non esposte dell'ex museo storico topografico di Firenze com'era e un'ampia rassegna di marmi, gessi e reperti lapidei di varia provenienza. La scelta del posizionamento dei quadri è funzionale, le più grandi e delicate sulla griglia a parete, gli altri su quelle scorrevoli che saranno aperte durante le visite guidate e su prenotazione che inizieranno il 26 gennaio e proseguiranno ogni sabato.